Sono a San Severo e stanno bene il 91enne e l'84enne di Ripa Tiatina di cui da ieri pomeriggio si erano perse le tracce. I due amici erano usciti insieme a bordo di una Ford Fiesta Nera e non erano più rincasati. A dare l'allarme per primo è stato uno dei figli dei due uomini, preoccupato per la lunga assenza del padre. Le ricerche dei due amici erano state avviate nella tarda serata di ieri dai carabinieri e dai vigili del fuoco di Chieti, in un primo momento senza alcun esito e poi riprese con il coordinamento della prefettura di Chieti. Questa mattina, per rintracciare i due amici, sono state coinvolte anche le unità cinofile dei carabinieri. I cani molecolari si sono concentrati soprattutto nei pressi della chiesa di San Rocco, dove vive uno dei due. Una cella telefonica aveva registrato un'ultima attività nel pomeriggio di ieri, poi più nulla. Questa mattina, l'intero paese, dove i due uomini sono conosciuti e benvoluti da tutti, era in trepidazione per le ricerche ancora in corso. Le ultime informazioni sono arrivate dalle telecamere di videosorveglianza del paese, vagliate dagli agenti della Polizia Municipale e dal vice sindaco di Ripatiatina, Marco Ricciuti, che hanno filmato la Ford Fiesta Nera con a bordo i due amici muoversi alla volta di Francavilla al mare. La svolta nelle ricerche è arrivata in tarda mattinata, quando i carabinieri di San Severo hanno rintracciato i due uomini e avvisato i loro familiari e il comune di Ripatiatina. Un giallo alieto fine, dunque, con un intero paese che adesso aspetta il ritorno a casa di due amici, che ora però dovranno chiarire come e perché siano arrivati a San Severo senza avvisare nessuno.